Come dichiarato qualche giorno fa, anche sulla mia pagina Facebook, finalmente la Regione Campania si è convinta, ci ha ascoltato, e lo ha detto anche il Governatore De Luca in qualche sua recente intervista, si procederà al rafforzamento del personale dei centri per l'impiego, scorrendo le graduatorie attive, una battaglia che abbiamo condotto nell'ultimo anno in maniera intensa, ho depositato personalmente numerosi atti in Consiglio regionale, ho incontrato numerose persone che avevano sostenuto quel concorso ed erano in attesa. Ora mi scrivete quali sono i profili previsti con questo scorrimento? Allora, leggendo la documentazione pervenuta, si scrive che entro il 31-12-2023 si procederà allo scorrimento per rafforzare i profili D, ossia si parla di informatico, di mediazione e di comunicazione, quindi adoperando lo scorrimento delle graduatorie attive, profilo D. mentre per il profilo C si procederà allo scorrimento, però si sono presi un tempo più ampio, entro il 31-12-2025, quindi proseguendo nello scorrimento sempre delle graduatorie attive, quelle che saranno ancora attive in quel momento, e poi con ulteriori concorsi. Naturalmente scrivetemi qualsiasi remora, qualsiasi ansia che avete in merito, siete in tanti, mi stanno arrivando numerosi messaggi, quindi possiamo benissimo spingere e scrivere anche ulteriori atti istituzionali per chiedere di aggiustare per esempio il tiro e di procedere anche diversamente. Naturalmente la regione aveva già delle indicazioni da parte del ministero all'epoca, e lo abbiamo detto più volte, per rafforzare le risorse umane nell'ambito del settore del lavoro, specialmente nei centri per l'impiego. Ricorderete che grazie al governo Conte, quando nacque il reddito di cittadinanza, furono stanziati un miliardo di euro rivolto alle regioni proprio per fare assunzioni. È stato fatto un primo concorso, sono state prese soltanto 600 persone, ma il fabbisogno era di 1800 persone. Quindi ci sono ancora dei vuoti enormi, e per far funzionare la macchina pubblica serve personale qualificato, personale adatto anche al contesto storico per quanto riguarda le innovazioni tecnologiche, dei software che sono stati messi in campo e man mano si stanno mettendo in campo. Quindi serve gente capace, gente pronta, gente fresca, gente che è aggiornata anche sul cambiamento che stiamo vivendo, anche sotto il profilo burocratico, digitale e amministrativo. Quindi scrivetemi e fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie.